Ciao e benvenuto in questo video tutorial su come utilizzare una macchina del fumo da 1200 watt In questo caso abbiamo utilizzato un modello Karma, una delle più famose marchi sul mercato italiano che produce macchine del fumo e macchinari audio e video per feste ed eventi Allora, prima di tutto, come funziona una macchina del fumo? Una macchina del fumo semplicemente ha una caldaia che riscalda il liquido che viene sparato attraverso una pompetta che lo stucchia dal serbatoio, quindi molto semplicemente hai un serbatoio, va riempito con il liquido adatto dopodiché questo liquido verrà sparato all'interno di questa caldaia, si vaporizzerà e a questo punto uscirà nebulizzato Mettendo un liquido del fumo, che è un liquido studiato apposta, questo fumo è molto più denso e quindi darà l'impressione appunto del fumo Quali sono le occasioni di utilizzo in cui puoi utilizzare una macchina del fumo? A differenza di quelle piccole, tipo 400 watt, questa è una macchina del fumo adatta a ambienti grandi come per esempio 100-200 metri quadri, puoi organizzare una festa e utilizzare questa macchina del fumo senza problemi L'obiettivo di utilizzare una macchina del fumo in questo caso è quello di annebbiare un po' l'ambiente e far sì che gli effetti luci si vedano nel migliore dei modi Esiste infatti anche un'altra tipologia di macchina, l'Huds Machine che è una macchina che spara del fumo molto meno denso e che ha appunto l'obiettivo di essere utilizzata durante spettacoli teatrali per addensare un po' l'area e far sì che i giochi di luce come quelli delle teste mobile e i fasci si vedano perfettamente Ovviamente se devi organizzare una festa in casa non è bisogno o anche comunque una festa di piccola entità non è bisogno di questi tipi di macchinari e potrai noleggiare senza problemi un macchinario di questo tipo Ora, cosa viene dato in dotazione e cosa diamo nel noleggio? Ovviamente se noleggerai una macchina da una struttura come la nostra ti verrà dato il liquido apposta ed oltre a questo ti verrà dato il filo comando e il radiocomando Come funziona? Attaccherai la macchina e dovrai aspettare che il filo comando ti dia l'ok Ti dia l'ok vuol dire che avrai queste due lucette rosse Ora in questo caso noi abbiamo già preriscaldato la macchina ma tipicamente ci metti 6-7 minuti per riscaldare una macchina di questo tipo A questo punto potrai cominciare a sparare la macchina, a sparare il fumo semplicemente cliccando sul bottone oppure utilizzando il radiocomando Ovviamente sono radiocomandi che non prendono una distanza notevole quindi diciamo che un raggio d'azione normale possa essere fra i 5-6-10 metri al massimo Ora, finito di utilizzare questa macchina del fumo ci sono delle cose molto importanti che devi sapere Intanto, che manutenzione hanno queste macchine? Se la stai noleggiando non te la preoccuparti perché ci penseremo noi a rientro a fare una cosa semplicissima La pulizia della pompetta Si fa con l'acqua distillata o ancora meglio con un liquido apposta In questo caso proprio si chiama liquido dedicato alla pulizia delle macchine del fumo In questo caso anche la marca di questo è Karma ma sul mercato ce ne sono quelli che vuoi, ce ne sono tantissimi Come funziona? Semplicemente sviderai questo tappeto lo metterai all'interno, metterai il tubo di pescaggio all'interno della boccetta e la farai andare finché non esce fumo A quel punto vedrai che la macchina continua a lavorare ma uscirà solo aria nebulizzata Che vuol dire? Vuol dire che non c'è più liquido del fumo all'interno della macchina e a questo punto sarai sicuro che la macchina sarà pulita Ora, che problemi potresti avere nell'utilizzo di una macchina del fumo? Il primo problema è che non funziona o non si accende La prima cosa da controllare è che la spina sia attaccata correttamente e soprattutto che ci sia corrente all'interno di questa spina So che sembra una cosa banale ma molto spesso questo è uno dei problemi principali che riscontriamo quando non leggiamo una macchina del fumo a chi non è del messiere La seconda cosa è che magari la macchina del fumo è accesa quindi vedi la spia che si accende ma non esce niente non dà segno di vita nonostante le spesi non accese A questo punto potrebbe non esserci del liquido all'interno della macchina e ci sono delle macchine che hanno una protezione Quindi in questo caso la macchina va in protezione e non fa azionare la pompetta perché qualora dovesse chiedere liquido e aspirare aria rischierebbe di rovinarsi Un altro problema che potresti incontrare è la rottura della pompetta Come te ne accorgi? Te ne accorgi perché quando provi ad azionare la macchina che succede? Che senti il click dell'azionamento diciamo elettromeccanico ma non senti la pompetta funzionare A questo punto potresti smontare la macchina e dargli una pulita e potrebbe ripartire oppure procedere per una sostituzione Diciamo che cambiare una pompetta costa tra 25-30 euro di pompetta del costo del pezzo e se vai in una ditta specializzata in manutenzione diciamo che con 50 euro dovresti cavartela Diciamo che può valere la pena ripararla Stessa cosa non possiamo dirla per la caldaia perché qualora si rompa la caldaia è un pezzo molto costoso quello più costoso di una macchina del fumo Quindi il mio consiglio è qualora si rompa la caldaia di sostituire l'intera macchina Ora, perché si dovrebbe rompere la caldaia? Potrebbe essere normale usura Come te ne accorgi? Te ne accorgi perché la macchina non arriva mai in temperatura e quindi non attacca a niente Cioè la macchina va sempre in protezione Detto questo Cos'altro devi sapere per l'utilizzo di una macchina del fumo? Diciamo che non ti serve una macchina del fumo che spruzzi troppo fumo durante una festa perché rischieresti di dar fastidio alle persone Queste macchine del fumo non possono spruzzare un getto continuo perché andrà in protezione quando la temperatura della caldaia si abbassa In questo punto non dovrai far altro che attendere che la temperatura si rialzi nuovamente per reazionarla Esistono alcune macchine del fumo che hanno una doppia caldaia costano un po' di più e ti permettono di avere un getto continuo Detto questo non mi resta che augurarti buona festa e buona visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti